Adesso chiamiamo, anzi prima lo voglio presentare e poi lo chiamerò proprio come si fa, il nostro primo relatore che è Piero Ferrucci e voglio introdurlo perché in un modo un po' diverso, ce lo siamo detti prima, le note biografiche per chi non lo conosce sono nel nostro programma, trovate i suoi libri nella libreria che abbiamo allestito qui fuori. Ma quello che vorrei dirvi di Piero in questo caso è che oltre a essere un amico personale ormai di tutta la verso, è una persona che fa parte di tutta la carovana che ha cominciato a lavorare sull'elefante, è il primo sapiente che abbiamo attirato come verso e anzi fa parte del comitato scientifico di questo evento, ci siamo incontrati innumerevoli volte per immaginare, creare questo evento e diciamo che lui è una parte di tutto quello che voi vedete. Per dire questo, cioè che tutti quanti lo siamo, Piero in particolare che lo sto presentando adesso, volevo tirar fuori un concetto che ho avuto la fortuna di vedere espresso anche, una cosa che sta molto cara a me, a Piero, anche ad Andrea che tante volte ha usato questa storia, che ho avuto la fortuna di incontrare proprio nella sua piccola biografia, che è lunga ma piccola rispetto alla sua vita, che è nel suo sito. Mi ha molto incuriosito e voglio dirvelo perché si intitola proprio così, la Indra, le perle di Indra o qualcosa del genere. Chi è Indra? Indra è una divinità induista, la più grande divinità induista, ed è molto famosa la storia a cui mi riferivo prima delle perle di Indra o delle sfere di Indra, cioè il cielo dove Indra abita, che pervade Indra tutto l'universo, quindi anche il cielo, è pervaso, secondo questa visione, da tante perle. Per me in questo momento Piero è una perla, anche noi lo siamo. E che cosa succede a queste perle? Che si riflettono l'una nell'altra. Quindi attraverso una persona, per esempio Piero, noi siamo entrati in contatto con tante altre persone, con tanti concetti, con tanti mondi. Adesso Piero qui racconterà la sua conferenza, il titolo Un'antica soluzione ai problemi del futuro. Qualche mese fa, sempre all'interno del progetto dell'elefante, che è partito con delle conferenze il lunedì dell'elefante, ha parlato della relazione più bella, come curarci degli altri ci rende pienamente umani. Ma questo non è soltanto un pensiero di Piero, è proprio un concentrato di perle, che si riflettono l'una nell'altra. Queste note biografiche, volevo leggere, che rendono proprio l'idea di questa interconnessione. Dice Piero, una mia convinzione profonda è che noi siamo costituiti dagli altri. Le relazioni che abbiamo avuto nella nostra vita formano la sostanza stessa di cui siamo fatti. Quindi, i nostri genitori e parenti, i nostri amici e colleghi e maestri, e tutte le altre persone con cui abbiamo interagito, vivono dentro di noi. Gli altri sono in noi, noi siamo negli altri, come nei cieli del Dio Indra, in cui sfere luccicanti si rispecchiano le une nelle altre e anche rispecchiano i rispecchiamenti e così via all'infinito. Questo include le musiche che abbiamo amato, i libri che ci hanno formato, i paesaggi, quadri, film, e le architetture che ci hanno colpiti. Tutto fa parte del tessuto vitale che è la nostra esistenza. E quindi, senza Dante e Kafka, senza i concerti per pianoforte e orchestra di Mozart, o gli affreschi di Piero della Francesca, senza Platone e Chuanzee, io sarei una persona molto diversa da quella che sono. Pensando ai miei genitori, penso che anche loro hanno avuto dei genitori. Di nonni ne abbiamo quattro, di bisnonni otto, di tre snonni sedici, e ognuno di loro confluisce in qualche modo in noi. Se risaliamo di 15 generazioni, meno di 500 anni, si parla di migliaia di persone. Quindi, invito Piero Ferrucci sul palco e con lui molte altre persone. Beh, non c'è male quel brano che hai letto. Di solito trovo più imbarazzante quando qualcuno mi cita. Ma, eccomi qua con le 15.000 persone prima citate. E voglio incominciare raccontandovi una storia. È una storia sufi, che riguarda un derviscio e un peccatore. Il derviscio è un signore a cui piace molto, in questo caso, in questa storia, mi piace molto fare la predica. E mi piace andare a vedere come tutti gli altri fanno degli errori e poi glielo va a dire perché pensa che sia suo compieto correggerli. Proprio come il suo vicino di casa, il derviscio ha un peccatore. Il peccatore ha il vizietto di andare sempre a giocare, giocare d'azzardo. Ogni giorno, verso una certa ora, gli viene quel solletico e deve andare. Allora, il derviscio cosa pensa? Ogni volta che lui va, per ricordargli che sta commettendo un atto indegoroso, metterò un sasso davanti alla sua porta. E ogni volta succede la stessa cosa. Quest'uomo non ce la fa più, va a giocare d'azzardo e si trova un sasso in più. E il derviscio ci prova un certo gusto a mettergli quel sasso. Mentre invece il peccatore, andando e cadendo in questo ennesimo cedimento, pensa come sarebbe bello se io fossi una persona buona e capace. Sarebbe proprio bello. Però non ce la fa. Passano i giorni, passano gli anni e intanto i sassi si accumulano. A un certo punto sono passati vent'anni. E per una strana combinazione del destino muoiono tutte e due. Il derviscio e il peccatore. E alla porta del peccatore arriva un angelo. E l'angelo gli dice, vieni, andiamo in paradiso. In paradiso? Ma io ho fatto dei pasticci tutta la mia vita. Forse ti sei sbagliato di indirizzo. Guarda che c'è il mio vicino di casa che è il derviscio. E forse è lui che deve andare in paradiso. Dice, no, lui sta già rostendo nelle fiamme dell'inferno. Ma perché? Perché ha sempre goduto degli errori degli altri. Dice, io perché devo andare... Perché io vado in paradiso. Perché ogni giorno ti sei sempre ricordato del bene. Ecco, ogni giorno ti sei sempre ricordato del bene. Ho voluto incominciare con questa storia perché credo che sia opportuno ricordarci del bene. E credo che la cura, la cura di cui parleremo per tutto questo weekend, non c'è soltanto la cura delle persone, di che vedremo abbondantemente, c'è anche la cura dei valori e la cura delle idee. E la cura di tutto ciò che è più prezioso nella nostra vita e che non deve essere dimenticato e non si deve disintegrare nel nulla. Per esempio, ci sono delle persone che si prendono cura del silenzio. Perché in questo pianeta non c'è più un solo posto in cui ci sia il perfetto silenzio. Perché anche nel luogo più silenzioso prima o poi ci passa sopra un aereo, c'è qualche rumore che guasta tutto. Il silenzio è un valore da preservare. La stessa cosa per il buio, per esempio. Dice, ma chi se ne frega del buio? No, è importantissimo. Per esempio, se voi andaste nel posto dove Van Gogh ha dipinto il cielo stellato, non vedreste più le stelle che ha visto lui. Vedreste un cielo grigio perché c'è l'inquinamento luminoso. Anche il buio va preservato. E mille altre cose. Soprattutto, io direi, i grandi valori su cui si poggia la nostra civiltà. La tolleranza, la libertà, la giustizia, la cultura, l'amore, la bellezza. Fra poco vi proporò una breve meditazione su questo. Però prima vi voglio far vedere un filmato che in qualche maniera ha a che vedere con la cura. Dove devo dirigerlo? Ecco. Facciamolo partire. Questo è il Metropolitan Museum di New York. È appena arrivata una statua. È la statua di Atena Parthenos. Guardate come la trattano. Mi pare già questo un esempio di estrema cura. E dice, certo che la trattano così bene. Pensa che se si fa anche una piccola scheggia, lì partono milioni di dollari. Ma perché vale così tanto? Vale così tanto per quello che rappresenta. Non è soltanto, come vedremo fra poco, non è soltanto una statua fra le più belle che siano mai state fatte. Questa è di Fidia. Rappresenta la dea Atena. E la dea Atena è nata dalla testa di Giove con una grande esplosione di luce che ha dissipato, perlomeno in quel momento, i pregiudizi, le superstizioni, l'errore, la falsità. Eccola qui. Guardate come la trattano bene. Questa è la cura. Anche questa. E si può dire proprio che abbia la testa posta adesso. Dice di no e poi va bene. Fra poco la meditazione che faremo sarà un po' simile a questo filmato perché vi domanderò di accogliere dentro di voi, come è stata accolta qui la dea Atena, di accogliere dentro di voi un valore. un valore a vostra scelta, il valore che voi ritenete più alto, il valore a cui voi tenete maggiormente. Quindi vi guiderò in una breve meditazione. L'elefante, avete capito, questo si avvale di varie metodologie di lavoro. Una di queste è la meditazione. Chi non vuole meditare, naturalmente, è libero di non farlo. Chi vuole meditare, invece, è invitato a chiudere gli occhi. Sarà per un paio di minuti. Neanche. E di fare attenzione, com'è il vostro respiro in questo momento? È tranquillo? È ampio? È vasto come può essere il respiro? Rendetelo ampio. E con quell'ampiezza immaginate di creare uno spazio dentro di voi, uno spazio libero. E poi scegliete il valore che vi sta più a cuore. Qual è il valore che vi sta più a cuore? L'amore, la tolleranza, la libertà, la cultura, la felicità. Scegliete il valore che volete. E poi vi chiedo semplicemente di porre all'interno di voi, di voi stessi, del vostro spazio, di porre questo valore. di sentirvelo dentro, di viverlo, e di affermarlo. potete lasciarvi venire anche un'immagine, un simbolo che rappresenti questo valore. e poi quando volete potete aprire gli occhi. pensate che facendo questo brevissimo esercizio, che poi è molto simile a quelli che noi facciamo nella psicosintesi, hanno scoperto proprio nel lavoro di neuroscientifico non soltanto cosa che già si sapeva, che si accendono altre aree del cervello che magari in quel momento non usiamo, aree che hanno a che fare soprattutto con l'attenzione, ma ci sono reazioni e benefici in tutto il nostro organismo. Anche solo per il fatto di aver ricordato noi stessi un valore che vogliamo che sia il cardine della nostra vita. Se invece pensiamo alla guerra, alla violenza, all'ingiustizia, anche in quel caso ci saranno reazioni del nostro organismo, ma reazioni ben diverse. Per cui anche su queste cose naturalmente bisogna pensare, ma sapendo le conseguenze che questo comporta. Ecco, finora abbiamo parlato da un punto di vista molto evoluto a livello della nostra civiltà. Se riuscissimo tutti a fare questo, la nostra società cambierebbe, ma io vi voglio dire che la cura in realtà è qualcosa di molto antico, non è qualcosa che noi dobbiamo ancora imparare, perché la conosciamo molto bene e fa parte proprio del nostro passato animale, fa parte dell'evoluzione, è presente un po' in tutte le specie superiori, non soltanto i mammiferi, ma addirittura sono state, adesso si studiano sempre di più, guardate per esempio quell'ipopotamo che ha fatto amicizia con una tartaruga, è stato un caso molto studiato, perché era un piccolo ipopotamo che aveva perso la mamma, è stato portato in un centro dove si curano degli animali che hanno subito delle difficoltà e si è subito affezionato alla tartaruga che in qualche modo ha ricambiato e sono diventati molto amici, si sono presi cura l'uno dell'altro, insomma la cura è qualche cosa che già ci appartiene, non è un'aggiunta estemporanea che dobbiamo imparare, anzi senza nessuna cura noi non ci saremmo, non esisteremmo neppure. Altra precisazione voglio fare, se voi andate soprattutto nei musei ma anche a vedere delle illustrazioni della vita dei paleolitici, vedrete spesso questo tipo di illustrazione, fuori c'è l'uomo con la lancia, con un'arma, l'uomo cacciatore, dentro nella nella caverna c'è la donna che invece si prende cura del bambino, come se la cura fosse una prerogativa femminile soltanto. questo non è vero, ecco, questa è un'altra illustrazione, c'è uno studio che ha fatto proprio, ha visto che le illustrazioni in realtà le illustrazioni delle famiglie paleolitiche in realtà rispecchiano una ideologia, ideologia più o meno degli anni cinquanta in cui c'è stata tutta un'ondata di nuovi musei in America e insomma si vede si vedono più magari le famiglie nostre che non quelle dei paleolitici dove in realtà non c'era questa divisione dei compiti dove uomini e donne erano dediti alla cura entrambi erano dediti alla cura dei bambini entrambi andavano a procacciarsi il cibo e questo si è riuscito a capire attraverso i sofisticati metodi della bioarcheologia sono andati a vedere le lesioni nelle ossa degli uomini e donne paleolitici e hanno scoperto che sono le stesse lesioni quindi facevano le stesse cose non c'era la divisione dei compiti la cura è una caratteristica umana non soltanto femminile o maschile ma è una caratteristica umana c'è anche un'altra cosa che vi voglio dire che vorrei chiarire qui vediamo il sublime Krishna che protegge la sua amante Rada con un ombrello perché sta venendo un terribile temporale si è di notte e lui la vuole proteggere ma mi pare che abbia anche altri interessi ai quali Rada reagisce con molto favore in altre parole questa è un'atmosfera erotica quindi assieme alla cura qui c'è anche eros e questo è un punto da sottolineare il grande neuroscienziato Panskep che è morto da pochi anni parla dei circuiti del cervello c'è il circuito per esempio della della rabbia c'è il circuito della paura c'è il circuito della sessualità e c'è il circuito della cura che c'è già fa parte del nostro macchinario certe volte il circuito della cura e quello della sessualità si mescolano e Panskep dice ma forse Freud non aveva tutti i torti Freud diceva che tutte come è noto tutte le emozioni sociali positive hanno origine dalla sessualità forse un po' di ragione dice Panskep Freud ce l'aveva ma è vero però che questi due sistemi dell'eros e della cura si sono poi differenziati naturalmente è giusto che in certi contesti per esempio relazione di coppia è giustissimo che ci siano tutte e due che ci sia la cura che ci sia l'eros in altri contesti magari contesti professionali ce ne deve essere uno solo ed è importante che i circuiti non si accavallino ecco per esempio guardate questa bellissima immagine di Piero della Francesca Sansepolcro qui c'è solo il circuito della cura è la Madonna che è un'immagine che in un certo senso richiama anche qui c'è una specie di ombrello ma che protegge ma protegge tutti i fedeli e basta non c'è un'atmosfera di altro tipo qui c'è proprio il circuito della cura e basta ecco detto questo io sapete cosa vorrei fare vorrei passare in rassegna alcuni dei cambiamenti che ci sono quando noi ci prendiamo cura di qualcun altro o ci prendiamo anche cura di noi stessi o ci prendiamo cura anche di un valore come ho detto prima questi cambiamenti sono moltissimi perché la cura ci trasforma attraverso la cura noi impariamo un mucchio di cose e produciamo cambiamenti a livello fisico emotivo mentale spirituale e il primo di cui vorrei il più evidente anche il più ovvio di cui vi vorrei parlare è quello dell'empatia e l'empatia adesso si parla molto di empatia a livello neuroscientifico ma io invece ne vorrei parlare in un'altra maniera perché vi voglio voglio esaminare con voi una poesia di Coleridge perché io penso che i poeti sono quelli che arrivano per primi poi dopo qualche secolo arrivano tutti gli altri questa poesia che non cito nella sua interezza è proprio una storia Coleridge era un grande amante della natura un giorno ha invitato dei suoi amici venite andiamo a fare una bella passeggiata di tutta la giornata e e così passiamo una giornata nella natura però succede un incidente lui si fa male alla gamba e non può fare la passeggiata e rimane nel suo sotto la sua pergola che mentre i suoi amici vanno a fare la passeggiata e dice che ecco beh se ne sono andati io resto qui questa pergola di Tiglio è la mia prigione la sente la sua prigione perché lui vorrebbe andare con loro però poi a mano a mano che va avanti la poesia succede una cosa bellissima lui non è più nella prigione ma diventa questi suoi amici e fa il loro cammino e quindi vede le felci vede le rocce vede il mare nel mare ci sono le vele ci sono le isole di colore di viola e poi alla fine c'è un tramonto straordinario che gli fa venire un'esperienza trascendentale leggiamo la traduzione italiana ancora prima per piacere grazie sole glorioso scendi calmo dietro il grinale apponente splendete rossi sulla brughiera voi fiori nei raggi obliqui del tramonto e voi nuvole incendiatevi ancora di più boschi lontani ravvivatemi di luce gialla e tuo ceno accenditi di azzurro e qui c'è l'empatia così l'amico mio si riempirà di gioia come fece anch'io tra sognato e muto sì osservando quella vastità finché tutto sembra di materia più sottile e di quelle tinte di cui si veste lo spirito onnipotente quando dal nostro spirito si fa sentire e poi alla fine questa è solo una parte della poesia perché alla fine lui si rende conto che in realtà è ancora lì sotto la pergola di Tiglio e allora si rende conto che però quella non è più la prigione lui è uscito dalla prigione la prigione dell'ego e perché è uscito perché è riuscito a empatizzare con i suoi con i suoi amici è diventato si è medesimato negli altri e quindi è andato oltre le mura dell'ego in realtà l'empatia è un fenomeno piuttosto complesso e io vorrei semplicemente ricordarvene tre di queste componenti la prima componente è quella di cui si parla di più l'empatia emotiva quella per cui entriamo in risonanza con qualcuno e con le sue emozioni con la sua paura con il suo dolore con la sua contentezza e via dicendo per esempio un po' di tempo fa mio figlio nostro figlio uno dei nostri due figli è pianista e ha messo si è installato a Milano ha affittato un pianoforte a una stanza ha incominciato a suonare il pianoforte e gli è successo quello che succede a molti musicisti che i vicini hanno incominciato a bussare sui muri e a protestare violentamente e allora lui sconvolto ci ha telefonati e cosa abbiamo fatto noi genitori abbiamo empatizzato siamo abbiamo vibrato dallo stesso sdegno ma che incolte questa gente poi però questo mio figlio non glielo ho detto altrimenti mi fucilerebbe ma mi è venuta l'empatia cognitiva perché l'empatia cognitiva cosa vuol dire mettersi trovare un'altra prospettiva è uno sforzo mentale questo la prospettiva per esempio dei vicini che magari erano dei pensionati che volevano starsene tranquilli e si devono sentire la fantasia di Schumann per otto ore al giorno e quindi la capacità di cambiare prospettiva che è una cosa di base e ve lo dimostro subito perché ci fa stare meglio di salute questo è dimostrato scientificamente e vi dico anche come hanno esaminato il linguaggio che usano le persone esprimendosi scrivendo quello che scrivono sui social tipo facebook e hanno controllato migliaia e migliaia di queste interazioni e hanno studiato la frequenza dei pronomi qualcuno usava molto la parola io qualcuno molto la parola tu noi loro voi eccetera eccetera che cosa dice questo della personalità di una persona poi sono andati a controllare queste persone e il loro stato di salute e anche la soddisfazione di vita cioè la loro felicità secondo voi chi era più felice quello che usava la parola io o tu o voi o noi attenzione che è una domanda tranello allora noi c'è il tranello e il tranello è che erano tutti più o meno uguali ma quelli che veramente stavano meglio di tutti erano quelli che cambiavano prospettiva che usavano un po' noi un po' tu un po' io perché perché erano quelli più capaci di mettersi nei panni degli altri sempre sempre quelli e poi c'è questo l'ha tirato fuori Goldman l'interessamento empatico che è una cosa ancora diversa perché voi immaginate che io abbia un incidente sono investito dal motorino da un motorino per la strada subito una persona mi soccorre che cosa che cosa mi aspetto io mi aspetto che abbia un'empatia emotiva che mi dica oh poverino sento il tuo stesso dolore no non mi importa niente mi aspetto l'empatia cognitiva che dica magari c'era quello del motorino che le sue ragioni ce le aveva ma il diavolo mi aspetto l'interessamento empatico che cioè quella persona sappia esattamente cosa fare ed è l'empatia che gli dà questa capacità quindi sono diverse facoltà che coinvolgono l'immaginazione che coinvolgono l'istinto che coinvolgono tutto noi stessi non basta dire il tale è empatico oppure non lo è passiamo a un'altra ci sarebbero molti cambiamenti io ve ne illustrerò soltanto qualcuno passiamo comunque a un'altra ecco un'altra conseguenza un altro effetto della cura quando ci prendiamo cura di qualcuno direi che questa è già anzitutto una precondizione uno che si prende cura perché deve prendersi cura e già la qualità della sua cura non è granché la cura funziona quando una persona si sente libera di darla e si sente libera di darla soltanto quando ha già una certa libertà interiore ma non solo quello evoca libertà nella persona di cui si prende cura non è la cura del adesso devi fare quello che ti dico io perché mi prendo cura di te che ci sono quelle le cure che la fanno da padrone che si vogliono imporre guardate questo quadro questo quadro dice tutto ecco qui si vede è un quadro di Renoir Pierre-Auguste Renoir la donna in realtà non è la mamma ma è la cugina di quel bambino che è il figlio di Renoir e qui vedete come lo tiene in braccio però il bambino è libero e può fare può giocare come vuole anzi lei gioca con lui e la cosa è di un notevole interesse pedagogico perché Renoir non lo sapeva ancora ma quel bambino poi diventerà un regista secondo alcuni uno dei più grandi registi di tutti i tempi cioè Jean Renoir e lì mi pare che si stia si stia già esercitando pensate un po' se gli avessi detto no no si gioca così se no adesso ti insegno io come giocare eccetera eccetera la libertà passiamo a un altro effetto ecco questo forse vi sorprende ma questo assolutamente ve lo ve lo dovevo dire ruvidezza ma perché ruvidezza ruvidezza non dobbiamo essere buoni gentili soffici i nostri soprattutto io parlo come psicoterapeuta non dobbiamo essere accoglienti eccetera questo è naturale questa è la base ma non basta io mi ricordo una volta una mia paziente anche allieva che a un certo punto mi disse ma insomma basta darmi mi dai sempre ragione tutto quello che faccio va bene mi accetti incondizionatamente che barba qui non succede niente e aveva ragione perché il terapeuta oppure l'educatore oppure il counselor certe volte si deve mettere di traverso e tanto per riscattarmi vi dirò anche che recentemente ho incontrato un mio paziente di 40 anni fa ed era un paziente che io non mi ricordavo più di quell'episodio è un paziente che si dava sempre addosso sapete quelle persone dicono come sono disgraziato come sono stupido ho sbagliato anche questa volta allora lavorammo e questo me lo ricordò quando ci siamo incontrati dopo tutto quel tempo dice ma tu ti ricordi quella volta che improvvisamente io mi stavo lamentando di me stesso e tu hai dato un gran pugno sul tavolo e hai detto basta con questi lamenti non dire non farlo più era ruvido e lui dice che è stato l'intervento più importante di tutta la terapia e adesso ve ne dico un'altra perché c'era questo qui della ruvidezza è una cosa importantissima perché se voi pensate se voi ci pensate probabilmente avete imparato dalle persone più ruvide o burbere che quelle da quelle gentili oppure insomma magari siamo pari ma un'altra volta mi era capitato che un mio amico americano questo eravamo ancora ai tempi dei dei manoscritti non c'era ancora internet e tutte quelle solite diavolerie e mi diede un manoscritto dice per favore puoi leggere questo manoscritto e dirmi cosa ne pensi io l'ho lessi e scrissi a margine dei commenti a matita erano tutti commenti abbastanza incoraggianti ma che bel libro e qua e là eccetera eccetera e lui li vide e disse ma guarda l'educazione europea ma come sei bravo ma come sei gentile qui si vede veramente da dove da dove vieni e pensa invece che ho dato lo stesso manoscritto a un americano scritto appena dappertutto ha fatto delle rigacce ha fatto punti esclamativi punti interrogativi ha detto ma questo non è vero questo non vale niente questo libro è tutto da rifare e io sono entrato in crisi depressiva e probabilmente non scriverò più il libro poi però dopo sei mesi l'ho incontrato di nuovo ai 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 sapete cosa mi ha detto ha detto i tuoi commenti mi spiace ma non mi sono serviti a niente erano troppo buoni invece quel commento cattivo ha cambiato completamente il libro è stato utilissimo questo non è un'esortazione a diventare cattivi ma quasi allora vediamo c'è ancora un'ultima cosa che vi voglio dire sì la gioia la gioia volevo visto che tocchiamo varie tradizioni e volevo accennare anche a Quanon o Quan Yin che è la dea nella tradizione buddista la dea della della misericordia e della compassione e ha la capacità di trasformare perfino gli inferni in paradisi in luoghi di gioia eccola qui e non si capisce mai in queste statue se è un uomo o una donna è proprio molto ermafroditica diciamo va bene andiamo adesso volevo fare ancora un'ultima citazione che ha dei risvolti contemporanei no no prima andiamo al vaso ancora ecco no ecco sì questa è la storia di Ulisse di Ulisse l'incontro di Ulisse e di Nausicaa Ulisse ha lasciato Calipso si è costruito una zattera è già vent'anni che sta viaggiando da tutte le parti e con la sua zattera ha attraversato tutto il Mediterraneo e a un certo punto ha avuto un terribile naufragio ed è approdato a un'isola che non conosce è nudo con la barba lunga con le alghe nei capelli e nessuno conosce chi lui è veramente e si è accasciato esausto sulla spiaggia e nel frattempo ci sono delle giovani fanciulle che sono andate sulla spiaggia a giocare a palla fra loro anche la principessa Nausicaa figlia del re Alcinò e qui vedrete che c'entra anche qui la dea Atena perché appena a un certo punto sfugge la palla alle ragazze la palla raggiunge Ulisse dormiente lui si alza e sembra un mostro guardate cosa dice l'Odissea selvaggio apparve ad esse aspro di sale marino e smarrite fuggirono qua e là per il lido solo la figlia di Alcino rimase Atena le diede a dire nel cuore le tolse ogni paura e ferma restò davanti a lui ecco come presentarsi a un migrante devo andare qui per leggere Nausicaa gli parla o straniero tu non sembri un uomo malvagio privo di senno ora sei nella mia terra giungi alla mia città e avrai certo una veste e ogni cosa che ti occorre poi si rivolge alle ragazze e dice loro è un infelice che giunse qui errando e ora ha bisogno di ogni nostra cura così si accorgono le persone grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti